eccoci qua siamo arrivati a questa ultima puntata di io non mi rassegno la rassegna stampa commentata d'italia che cambia prima della pausa estiva potremmo anche considerarla un po l'ultima puntata di questa prima stagione la stagione 2017 no la stagione 2019 2020 sono rimasto un po indietro con il tempo perciò essendo l'ultima puntata vi chiedo se avete dei commenti dei suggerimenti oppure ci sono dei temi che vorreste che affrontassi più spesso e che potrei affrontare nella seconda stagione di non mi rassegno per favore scrivetemelo nei commenti del video su youtube se guardate questo format su youtube oppure sotto al post su facebook sulla pagina facebook di tale che cambia o mandatemi una mail una cartolina una lettera un piccino viaggiatore o quello che vi pare essendo il nostro saluto prima delle vacanze estive perlomeno per prima delle mie vacanze estive non potevamo non concludere questa stagione parlando non so quanti non ho detto non parlando lo so fatto sa parleremo delle vacanze di vacanze estive parleremo di turismo più in generale e di come il covid abbia stravolto nel bene e nel male il modo convenzionale e tradizionale di intendere il turismo prima di cominciare come sempre comunque vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegnastampa italia che cambia.org trovate tutte le notizie di cui vi parlo e anche tante altre che vi segnalo questo oggi tutto il tema appunto turismo e che trovate anche tre modi molto semplici per seguire io non mi rassegno che sono iscrivervi al gruppo whatsapp iscrivervi al gruppo telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata detto ciò cominciamo è uscito un articolo su internazionale tradotto a sua volta dal guardian dove è stato pubblicato quello originale che mostra come le principali città turistiche d'europa si stiano attrezzando per questa stagione in tempi di pandemia e viene fuori che secondo i sindaci di questa città parliamo di città come barcellona praga amsterdam venezia così come tra l'altro secondo anche molti intellettuali e personalità di spicco in generale il collasso del settore dei viaggi dovuto all'epidemia è in realtà un'ottima occasione per creare un nuovo modello economico il tentativo di questa città di molte di questa città è quello appunto di dismettere di dismettere definitivamente un turismo di massa molto mordi e fuggi i cui effetti sia in termini di impatto ambientale ma anche in termini di impatto culturale sociale sono insostenibili sono diventati insostenibili in realtà lo sono sempre stati solo che adesso è molto più evidente e che tra l'altro non si può più neanche fare perché il turismo di massa e il turismo appunto con i grossi spostamenti e poco tempo non sono compatibili con le modalità previste dal sussistere ancora della epidemia di covid-19 e fare spazio cogliendo l'occasione al volo per creare un modello di turismo più lento e più sostenibile ovvio che è più facile dirlo che farlo nel senso che per quanto molti residenti anche di questa città si siano lamentati negli anni del fatto che ci sia una vera e propria invasione di turisti che porta i prezzi a salire alle stelle e appunto a perdere anche di autenticità in molti luoghi è pur vero che una buona fetta dell'economia locale di molte di queste città si basa proprio sul settore del turismo quindi tanto indotto tanto lavoro e non è facile cambiare modello in corso evitando al tempo stesso il collasso economico tuttavia dei tentativi si stanno facendo ad esempio a barcellona questo in realtà già da un po di tempo ma adesso la cosa sembra avere avuto un'accelerata ci si sta attrezzando per contrastare il fenomeno di airbnb che ha fatto salire il prezzo degli affitti alle stelle e ha portato molto spesso i residenti a trasferirsi altrove questo ovviamente può avere un senso finché c'è un afflusso molto alto di turisti ma quando i turisti non ci sono avere tante case in affitto su airbnb diventa solo controproducente sempre a barcellona e ancor più a venezia molte antipatie negli ultimi anni sono state rivolte verso le enormi navi da crociera solo che in questo caso nessuna delle due città ha giurisdizione sul proprio porto e quindi non può decidere nel senso che il porto resta sotto il controllo del governo centrale tuttavia le navi da crociera in questo momento che tra l'altro sono la base del vacanza del tipo di vacanza più devastante in assoluto dal punto di vista ambientale le crociere appunto sono fortunatamente ferme nei porti perché le crociere in questo momento non si possono fare questo è un'ottima notizia dal punto di vista ambientale e probabilmente anche sociale e culturale perché il tipo di turismo che promuovono le crociere non è sicuramente un turismo né lento né di profondità tuttavia anche i lavoratori portuali e non solo le persone che lavorano sulle crociere sono colpiti in maniera invece negativa da questo blocco e quindi sarà necessario trovare delle soluzioni in questo senso insomma come sempre nella crisi di un settore insostenibile come quello del turismo di massa si nasconde l'opportunità di sperimentare un cambio di paradigma e quest'estate 2020 potrebbe fare la prepista per un nuovo tipo di viaggiare un altro comparto insostenibile che ha ricevuto una botta micidiale dalla pandemia è sicuramente quello delle compagnie aeree che sono state messe letteralmente in ginocchio ci sono un po' di articoli che vi ho raccolto e ve li lascio appunto sulla pagina della segna stampa ma fatto sta che la IATA sarebbe la International Air Transport Association che sarebbe la principale organizzazione internazionale di compagnie aeree stima che per il 2020 il fatturato delle compagnie che aderiscono sarà complessivamente dimezzato e si registreranno perdite per 84,3 miliardi di dollari il debito globale delle compagnie sarà di 120 volte scusate di 120 miliardi superiore al livello di fine 2019 quindi crescerà di 120 miliardi per un totale di 550 miliardi di dollari che è pari a circa il 92 per cento dei ricavi attesi l'anno prossimo quindi quasi la totalità dei ricavi cioè i ricavi sono uguali al debito sostanzialmente molte compagnie stanno annunciando già da tempo tagli ed esuberi del personale la British Airways e la Virgin Atlantic e l'Easyjet sono tutte compagnie britanniche che hanno annunciato a luglio la perdita di quasi 20 mila posti di lavoro United Airlines ha annunciato qualche giorno fa che potrebbe licenziare fino a 36 mila lavoratori Air France taglierà 7500 posti in tutto il gruppo e ancora Lufthansa prevede 22 mila esuberi nel secondo round di ristrutturazione mentre l'International Airlines Group che possiede fra le altre la British Airways, Iberia, Whaling e così via ha annunciato una riduzione della sua capacità complessiva di almeno il 75 per cento ad aprile e maggio rispetto al 2019 quindi capite che sono numeri molto importanti. La crisi del settore aereo in realtà non è causata dal covid nel senso che il covid ha solo accelerato un processo che in realtà era in atto da anni, le compagnie aeree sono in crisi da anni e stanno in piedi principalmente grazie agli aiuti che i vari stati forniscono loro anche nella speranza di incentivare il turismo solo che ora che anche il turismo sta almeno in parte cambiando potrebbe essere la volta buona per rassegnarci al fatto che dovremmo volare molto meno, ma molto molto meno semplicemente perché non possiamo più permetterci, ma ormai da parecchio tempo, di bruciare tutto il combustibile necessario per scorrazzarci in giro nei cieli del mondo e adesso la scelta resta comunque una scelta politica nel senso che i vari stati decideranno se salvare per l'ennesima volta e dalla sua crisi più nera un comparto comunque destinato a morire, quello degli aerei oppure investire quei soldi per favorire l'occupazione in altri settori in accordo ad esempio con il Green New Deal staremo a vedere dicevamo comunque del turismo che cambia, abbiamo già parlato di come potrebbe cambiare il turismo in città ma il turismo, un turismo diverso, non è ovviamente solo in città su Italia che cambia abbiamo raccontato diverse volte le iniziative legate al viaggiare a piedi o in bici o al viaggiare lento in generale so che è tardi per organizzare le proprie vacanze ma se per caso siete ancora indecisi o non sapete cosa fare vi lascio in descrizione alcuni articoli che abbiamo pubblicato tipo ad esempio l'iniziativa Tourist for Future oppure la camminata Natural Walk in Basilicata insomma se il tema vi appassiona vi consiglio di leggervi questi articoli e vi consiglio anche di guardarvi una puntata molto molto interessante di a tu per tu in cui il nostro Paolo Cignini ha intervistato ben quattro ospiti che si occupano proprio di turismo lento, turismo a piedi sono un'oretta di intervista molto molto densa di contenuti detto ciò io vi saluto, vi auguro buone vacanze e che siano vacanze buone per davvero mi raccomando noi ci rivediamo lunedì 31 agosto quindi alle porte di settembre con l'inizio della seconda stagione di Non Mi Rassegno e mi raccomando e che duri tutta l'estate anche in quest'ultima puntata chi si rassegna è perduto ciao buone vacanze buone vacanze